Non ricordo, King, però c'è, è di qualche mesetto fa, forse meno di un mese fa. Allora, banniamo, banniamo, banniamo. Banniamo, banniamo, Belveteo, lasciamo open, possiamo levare Kazix, Karthus, non ho idea, e io non sciargo. Finchia, Malphite, Belveteo, volati via. Che ti stets. Vediamo un attimo che vogliamo giocare. Il senso potrebbe essere scelere una D o una P, va benissimo, scelere una D o una P, assolutamente sì. Ma perché vuoi swappare con me? Ah, era un altro. Prendi una Kaiza, dai, andiamo avanti con la nostra vita. Prendono Oblitz o Nautilus. Se prendi Zilasbrock. Bravo, bravo, molto bene. Loro potrebbero giocare Lulu. Potrebbe essere Vayntop. We can pick action before. A livello di draft hanno fatto schifo. Might be Vayntop. I think it is. Qua devo blindare. Potrebbero andare di Braum. Sì, per questo. Se vanno di Braum potrebbero andare di Karma. Oblitz anche meglio contro Braum. La temperatura della camera, ragazzi, no. Non è un problema di colore. È la cam che fa schifo, ragazzi. Ed abituati a una camera da 3000 euro. Questa ne vale 60. Ma domani c'ho la camera giusta. Ok, lui gioca Alistar. Potremmo anche giocare forse Morgana. È tanto brutto Morgana. Oddio. Contro Pantheon. Giocherei comunque Nautilus. Sì, 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 sì. Le rune le cambiamo. A sto giro prendiamo l'armatura. Vogliamo tankare un po' di più? No. Questo teniamo. Fleshingite o Fleshingite o Fleshingite teniamo l'ingite. Cambiamo skin, dai. Giusto per mischiare un po' le carte. Quindi support più che DAP, conta engage l'anciante poker come categorie? Serve avere un po' di tutto, sì. Sicuramente le due macro categorie più importanti sono engage e disengage. Se il tuo team ha bisogno di engage, hai bisogno di avere uno o due pick da engage. Se il tuo team ha bisogno di disengage, hai bisogno di quello. Poi c'è ovviamente il POC, c'è il sustain. Ci sono gli assassini, c'è il support a D. Però tendenzialmente ti serve ingaggio o non ti serve ingaggio? Questa partita c'è qualcuno che ingaggia la mia scuola? No, devo ingaggiare io. C'è una front line? No, devo essere io la front line. Questi sono i pensieri principali. Infatti mi sa che mi farò il radiant perché sarò quello a tankare di più, anzi. Pinghiamolo. La nostra botte dovrebbe essere molto più forte la loro. Un po' Un po' Sì Non bene Don't play with me Schive il bambino Tell me Questo non era Flame DJ Ma che caccio Buon pomeriggio Come va il dito? Vuoi un bacino così guarisce prima? Eh sì magari Comunque il dito è molto bene boys Allora Andiamo Vamos Oh quello l'hanno stato tutto Non c'è bene Cleanse Cleanse abbastanza inutile contro i loro Era meglio la IAL Con la IAL si salva acqui guys Penso che siamo comunque più forti di loro a livello 1 Ah che grande bambino Ne so Dovevi stare di me Eh ma Anche loro ho fatto il livello 2 Però ripeto Dovremmo essere più forti di loro Assolutamente Non è un Montraiser C'è caso di vincerlo io L'unica domanda è dove è Talia Non Talia Lilia Talia sta invadendo Dice che quella è là Possiamo dopo il carretto Magari ingaggiarle Aia No non l'ha presa Allora vediamo un attimo se Riesco Non ho una leggera paura Di ingaggiare Finchè non vedo Talia Eccola Ho compuso 13 volte Talia Lilia Ok Possiamo andare a darle fastidio Va bene Ero convinto che la barla Mannaggia Comunque qui Continua a vincere Cioè Siamo ancora più forti nel 2v2 Buona 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 Sono altre dinghi Tasi Basta rischare di morire Ditto E' morto No Vabbè ma E' un grab E muore quello Questo Alice che dice Don't play with me Mi sa che A breve ci Lascia le pennine Sì sicuramente Ci potrebbe essere Qualche nemico a breve Non muore Ma che caccio Ciao Ciao Robbins Dobbiamo ricollare Anche se non avrei voglia Ma pure Lilia è ancora missa E non è morta Quindi Do sta Qui c'è talia Ciao 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 ma direi bene ma che colliamo e colliamo hanno 3 ad e hanno 2 ap 3 ad e 2 ap hanno i bambini a senso farci tab mi farei comunque le swiftness pink troppo forte il king no no voi siete troppo forti voi siete i numeri 1 lo faccio per voi grave selvaggio comunque la prima kill è l'unica kill che hanno fatto è stata quella cringata su Kaizo quindi divento abbastanza tranquillo in merito a questa partita guarda guarda quanto siamo veloci qua di solito in queste situazioni cosa fareste se voi foste nel team nemico non bello report giangolo ff 15 gg well played no le solite cose che si dicono in questi casi il mio braccio è sempre più lungo si dubito che stia crescendo dopo i 20 anni non pensi che esca più non so qual è quando si smette di crescere ma noi qua possiamo ammazzare il carretto dobbiamo voltare a zia comunque a dare con le facciamo who are you guarda qua dopo due giorni di attività ci accolgono come degli dèi I'm Paul Cannon King Paul Cannon quando si impegna è così eh I would like to play with you with you Alistar but I'm sorry too bad opla we can play bro oh gigano per questo qui probabilmente possiamo ingaggiare è zariolo volevo aspettare il più tempo possibile porco due me l'hanno bucato senti facciamo cosa dobbiamo fare qua non è banale stiamo trollando assolutamente si we are trolling non si invale senza la gravità di push senza sono portato qui gli nego il carretto ma lui non usa la Q qua su quel mio magari un grabbino tecnico tattico che che ma io scuola no E ma Potrò salvare Almeno me Cioè potrò salvare Entrambi Jason adesso Gli spari in bocca Quella lama Non sa che la prendo Con lo stesso Aia Beh Ma quant'è Facciamo questo item Abbiamo Un sacco di one speed Andiamo veramente Con i treni Sulla mappa E Anche questo È molto bene Ragazzi Bene 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 È un bel lardo Non so per rubarmi i soldi Alla fine sono Va bene Se questa è la vostra risposta Non lo farò Ma ero veramente Tanto tentato Questa è una bella ward Pure questa Hoppla È un po' Che dire Abbiamo preso La torre No Perché Abbiamo ancora A giocare C'è il drago Ormai Giega No per quello Ne pushiamo un'altra Io ve l'ho ricollato Però Se volete fare I bulli Facciamo i bulli Mi sa che sorrano pure Questo Qua è 100 gold Eh io li devo aspettare Ragazzi Non posso andare in base Con 100 gold Da un item mitico Se non erro No Allora E a ricollo Dai Sono off tempo È assolutamente vero Ma c'è da dire Che abbiamo Questo E con questo Non dovremmo più morire Mai nella vita Che diventiamo davvero Tankosissimi Sì sì Direi un ottimo item Da avere Su Nautorus Se avessi avuto Qualcun altro In fronte Non l'avrei preso Mi sa che muore lei Ma che caccio Qualcuno mi dice Che assisteremo Ad un altro Sul render Amici Amiche Del web Bene Giochiamo a bellatore Top lane Tutta Serenità Posso farlo Se no Comunque non mi va Di giocare Spero di Non essermi sbagliato Ok Cosa vuole fare L'amico Pantheon Io devo ricollare Non ho Bigeon Ma che caccio Qui a spendere I miei soldi Per una giusta causa Cazzo Dai nanne Thank you so much For Quattro mesi E ne andiamo Portiamo a casa un'altra Se su 19 Chilissa Porta 13 assist Possiamo azzardare Un Sap Diff Abbiamo Abbiamo fatto bene Abbiamo fatto bene Abbiamo fatto bene Abbiamo anche avuto Fortuna ragazzi Nelle draft Abbiamo sempre avuto I team nettamente Più forti Di avversari Stare piovendo Questa dopamina In testa Ma abbiamo fatto Due partite Che secondo me Non si potevamo perdere Poi abbiamo giocato bene Sì Però Anche un po' di fortuna Ce l'abbiamo avuto Con che criterio Prende il Glaciel Rispetto all'Aftershock Allora io penso Che il Glaciel Sia meglio Il 95% Alle volte Forse penserei All'Aftershock Contro un Tank Contro una Leona Contro un Alistar In questo caso Ho giocato contro l'Alistar E Penso che comunque Il Glaciel Fosse meglio Quindi Comunque Di solito Contro Tank Matchup Che tendi a perdere Valuterei l'Aftershock